La politica deve tornare a rappresentare gli interessi dei lavoratori e non degli amministratori delegati e della grande finanza. Questo il monito lanciato stamane dall'ex vice ministro dell'economia nel governo Letta Stefano Fassina. Il parlamentare fuoriuscito dal PD in dissidenza con la linea renziana è intervenuto stamane alla Camera del lavoro di Parma nell'ambito di un convegno organizzato dalla CGL dal titolo Cantiere Lavoro, idea confronto per una rappresentanza politica del lavoro. La crisi di Parma sta dentro una crisi più generale, tanti territori italiani non avrebbero mai immaginato di trovarsi nelle condizioni in cui si trovano, in Veneto, in Lombardia, in Piemonte. Il punto è che a forza di svalutare le condizioni del lavoro, tutto il sistema, non solo italiano ma europeo, si trova in una situazione di stagnazione e di difficoltà. Perché svalutare il lavoro vuol dire ridurre le retribuzioni, ridurre i diritti, ridurre i consumi e quindi ridurre gli investimenti delle imprese. Dobbiamo invertire radicalmente rotta. Incominciando, l'abbiamo proposto per la prossima legge di stabilità dagli investimenti. Devono ripartire gli investimenti. Innanzitutto gli investimenti pubblici dei comuni in piccole opere, utili come la messa in sicurezza delle scuole, dei territori, la mobilità sostenibile attraverso la costruzione di treni per i pendolari o di autobus non inquinanti. Quindi investimenti che riportano al lavoro le imprese artigiane, le imprese dell'edilizia e ridanno fiato, ossigeno all'economia su una rotta di sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale. Non è un destino l'impoverimento del lavoro e l'impoverimento dei territori. Sono scelte politiche di un'agenda liberista, di un governo, purtroppo anche il governo italiano che è stata la parte dei più forti, ma che alla fine squilibrano così tanto i rapporti che inceppano il funzionamento dell'economia. Spesso si sente dire che la politica deve tornare a fare la politica, il sindacato deve tornare a fare il sindacato. Come e quando? Credo che oggi il problema fondamentale è che la politica ha dimenticato di rappresentare il lavoro. Il sindacato certamente ha tante difficoltà che derivano anche dal fatto che quando c'è disoccupazione i lavoratori sono più deboli e chi li rappresenta è più debole. Ma oggi il problema storico, non solo in Italia, che abbiamo di fronte è l'assenza di rappresentanza politica del lavoro. Si rappresentano soltanto gli interessi più forti. Marchion è il punto di riferimento di questo governo. I lavoratori sono una variabile economica che viene considerata subordinata agli interessi dei più forti. Hanno partecipato al dibattito oltre il segretario della CGL di Parma Massimo Bussandri, anche il componente della direzione nazionale del sindacato stesso Danilo Barbi e l'esponente di Sinistra Ecologia e Libertà, Simone Oggionni.